Federica Petagna, la star del Grande Fratello, è al centro di un dramma amoroso avvincente, che tiene incollati gli spettatori. Dopo la sua lunga relazione con Alfonso d'Apice, la situazione si complica ulteriormente con l'ingresso di nuovi personaggi, tra cui l'ex tentatore Stefano, che ha già suscitato polemiche. La tensione nella casa è palpabile e le rivelazioni si susseguono, rendendo la trama sempre più avvincente. In un'intervista esclusiva a Lollo Magazine, Giovanni De Rosa, un altro ex singolo di Temptation Island, ha svelato dettagli inaspettati sulla sua frequentazione con Federica. Secondo Giovanni, la loro relazione va oltre l'amicizia e si è trovato coinvolto in un triangolo amoroso che include anche Stefano. Queste rivelazioni complicano ulteriormente la situazione sentimentale della geffina. La presenza di Alfonso nel nella casa non sembra portare serenità a Federica. Giovanni ha dichiarato che la geffina non prova più sentimenti per Dapice e che il grande fratello potrebbe essere un trampolino di lancio per entrambi, anziché un'opportunità di riappacificazione. Inoltre, sembra che Stefano non sia a conoscenza della frequentazione tra Federica e Giovanni, generando ulteriori tensioni e colpi di scena. Con queste nuove informazioni, la situazione per Federica si fa sempre più intricata. Le sue scelte amorose potrebbero avere ripercussioni non solo sul suo percorso nel grande fratello, ma anche sulla sua vita al di fuori del reality. Gli spettatori sono in attesa di vedere come reagiranno i protagonisti a queste nuove verità e quali sviluppi ci saranno con il... ... ... ... ... Grazie a tutti.